Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di Football Emotion Italia Oggi siamo qui in studio per parlare del nuovo Showpiece Pack di Adidas Andiamo! Bene ragazzi, come vedete qui sul tavolo ho due scarpe che sono la X-Ghosted e la Predator in due colorazioni diverse Devo dire che è una colorazione che a me personalmente piace molto a primo impatto e sono delle scarpe molto ma molto speciali e ora vi spiegherò il perché Beh, come sapete ormai stiamo arrivando alla conclusione di tutti i campionati e cosa ci aspetta? Beh, ci aspettano due grandi partite la finale di Champions e la finale di Europa League Ebbene, Adidas ha pensato di fare delle scarpe da calcio esclusive per queste partite quindi vedremo queste due scarpe durante la finale di Champions League e la finale di Europa League Ma non solo, quindi ragazzi andiamo poco a poco e spieghiamo tutto per benino Sono delle scarpe molto ma molto esclusive perché la vestiranno esclusivamente tre giocatori La vestiranno la X, Ferran Torres, giocatore del Manchester City e Mohamed Salah, giocatore del Liverpool Due grandissimi giocatori, due grandissimi attaccanti che vestono questo silo in questo modello qui, quindi nelle X Gosset Plus in questa nuova colorazione che vestiranno in delle partite specifiche che ora vi leggerò Mohamed Salah le vestirà il 19 contro il Barley e il 23 contro il Crystal Palace Ovviamente poi deciderà lui se vestirle durante la fine della stagione quindi anche durante le partite successive Non lo so sinceramente se le vedremo dopo queste due partite o le vedremo esclusivamente contro il Crystal Palace o contro il Barley Non ne sono così sicuro Però ragazzi, Ferran Torres le vestirà in tre partite diverse Il 18 contro il Brighton, il 23 contro l'Everton e ovviamente il 29 Nella finale di Champions League contro il Chelsea Sarà l'unico giocatore Adidas a vestire questo scarpino qui Ovviamente abbiamo anche le Predator Predator che verranno utilizzate in questa colorazione esclusivamente da Paul Pogba e anche lui le vestirà in tre partite diverse Andiamo a vedere quali sono Sono il 18 contro il Fulham, il 23 contro il Wolves e il 26 contro il Villarreal in finale di Europa League Quindi ragazzi vi ho appena spiegato chi la vestirà Quando la vestiranno e ora spieghiamo bene cosa abbiamo tra le mani Partiamo subito spiegando la colorazione nelle Adidas X Ghosted Che come vedete trova un grigio molto ma molto chiaro sulla zona della tomaia Quasi trasparente e un nero con delle frecce in rosso qui Quindi un rosso quasi granata che va a sfumare sulle tre strisce Adidas Inoltre nella zona del tallone troviamo questo blu E una suola veramente veramente bella colore argento Perché Adidas ha scelto questo colore? Ovviamente perché si riferisce alla finale di Champions, la finale di Europa League Quindi questo colore della Coppa, quindi questo argento che significa il vincitore Quindi ragazzi è una colorazione che si rifà esclusivamente a questo alla Coppa E quindi al finale di Champions League e di Europa League Quindi questi colori molto ma molto rilevanti in queste partite Inoltre un dettaglio che a me personalmente mi piace molto è la suola Che troviamo due colori diversi nella suoletta Per esempio qui nella scarpa destra troviamo il rosso Mentre nella scarpa sinistra troviamo il blu Quindi ragazzi Ferran Torres e Mohamed Salah vestiranno questi scarpini Questi scarpini che a me personalmente piacciono abbastanza a livello di colorazione Ora passiamo a vedere le Predator Predator che vestirà esclusivamente Paul Pogba Ragazzi personalmente mi piacciono veramente veramente tantissimo Non so perché mi ricordano la Pepsi Qualche pubblicità della Pepsi con questi colori blu, rosso e argento Non so a voi ma a me personalmente si mi ricorda la lattina Non lo so insomma Anche qui ritroviamo gli stessi colori Argento come prima si rifà alla finale di Champions In questo caso alla finale di Europa League Perché la vestirà anche in quella partita molto ma molto importante Ragazzi anche qui troviamo gli stessi colori blu e rosso negli Spy Quindi in queste demo skin che ci aiuteranno moltissimo Andremo in contatto con il pallone Bordi in blu Questa scritta di Predator in rosso Passiamo alla suola Questa volta troviamo l'argento solo sulla zona del tallone Quindi solo sulla zona posteriore E nella zona anteriore una suola in colore rosso Ragazzi questo è tutto Non c'è tanto altro da spiegare in questo nuovo pack di Adidas Il Showpiece Pack Quindi ricapitolando un pochino tutto Quali sono le cose importanti da sapere su questo pack Due scarpe che utilizzeranno tre giocatori X-Ghosted, Ferran Torres e Mossola Predator esclusivamente Paul Pogba Le farteranno solo in determinate partite Soprattutto Ferran Torres nella finale di Champions League E Paul Pogba nella finale di Europa League Bene ragazzi siamo arrivati alla conclusione del video Abbiamo visto un nuovo Showpiece Pack di Adidas A me personalmente piace veramente veramente tanto Soprattutto i colori che hanno scelto Spero di vederla anche dopo queste tre partite che vi ho detto Quindi ragazzi se vi è piaciuto il video Lasciate un like, commentate E ci vediamo in un prossimo video Ciao! 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 Grazie a tutti.